e tanti fenomeni che molto spesso possono apparire inspiegabili, ma che sono in realtà frutto e legate alla crisi profonda dell'autorità morale e regolatrice della politica. Concludo. Ognuno deve fare i conti in casa propria. Ognuno deve saper guardare in faccia alla crisi. E questo significa, quando si fanno le liste, adottare metodi trasparenti e magari non candidare chi può magari poi non governare una regione o un comune. Ma bisogna anche dire in faccia una cosa. Il trasversalismo degli affari ha prodotto anche qualche matrimonio di interessi. E la destra in questo Paese dovrebbe avere la capacità di guardarsi allo specchio, soprattutto nel Comune di Roma. Ringrazio, collega Scotto. Il collega Molteni, prego. Ministro, mentre qua in Parlamento discutiamo di mafia capitale, discutiamo di malaffare, di criminalità organizzata, di corruzione, di infiltrazione della mafia all'interno di un ente locale, a poche centinaia di metri di distanza da qua, al Campidoglio, come se nulla fosse successo, come se nulla fosse capitato, si sta discutendo di Olimpiadi. Si sta discutendo di Olimpiadi a Roma 2024. E questo è drammaticamente il simbolo e la cartina al tornasole che dentro, in quel luogo lì, non c'è assolutamente la percezione di quello che è successo. Non c'è la percezione della gravità di questa inchiesta. È una gravità, e un fatto come questo può essere sanato unicamente chiedendoli dimissioni a colui il quale guida quella macchina amministrativa, ovvero il sindaco Marino, indipendentemente da implicazioni di natura penale. Abbiamo ascoltato il suo intervento, un resoconto perfetto di fatti di cronaca giudiziaria. Noi manifestiamo sin da subito la nostra stima nei confronti della Procura di Roma, del procuratore Pignatone. Li stimoliamo ad andare avanti. La cronaca giudiziaria è chiara o tendenzialmente chiara. Quello che manca è la risposta politica, è la carenza delle risposte politiche su questi fatti, è l'insufficienza della percezione politica di quello che è capitato. E ci sono due considerazioni che possono essere immediatamente fatte. Emergono due dati chiari. Il primo dato è la sinistra, e rispondo al collega migliore, che ha sempre sventolato per anni la bandiera della legalità, la bandiera della moralità, una presunta superiorità etica rispetto ai valori e principi della politica, della buona politica. Oggi quella bandiera la prende, la ammaina e la nasconde con vergogna e con infamia, non solo con riferimento ai fatti di mafia capitale, ma ad esempio anche con riferimento alla vicenda De Luca. L'altro dato politico è la connessione, fino ad oggi presunta, oggi certificata, tra la politica, tra la gestione della politica e la gestione del sistema mutualistico-cooperativistico. La sinistra che ha sempre preso le distanze a parole, ma in effetti rispetto a un possibile finanziamento della politica da parte delle cooperative sociali, rossa in modo particolare, ma anche bianche dall'altro lato, oggi questa presunta, anzi certificato, rapporto emerge in tutto il suo triste e drammatico spessore. Le cooperative come Bancomat dei partiti politici, come Bancomat della sinistra, fatto profondamente inaccettabile e per la politica, ma anche e soprattutto per le cooperative che tradiscono la loro finalità e il loro scopo mutualistico. E su questo non abbiamo sentito una parola da parte del Governo. Non basta, Ministro, un decreto anticorruzione, non basta aumentare qualche pena su qualche reato corruttivo, se poi la grave responsabilità politica della sinistra è quella di aver cancellato e ucciso un principio sacrosanto del diritto che è il principio della certezza della pena. Non basta Cantone, l'eroe Cantone, il super Cantone, se poi, come abbiamo visto l'altro giorno, quando Cantone dice l'appalto di Minè è un appalto viziato, irregolare, non trasparente. Quell'appalto va revocato, Minè va commissariata e il sottosegretario Castiglione va mandato a casa la sinistra. Difende Castiglione in quest'Aula, facendo vergognare i cittadini e soprattutto i militanti di sinistra. Salvatore Buzzi, qualcuno lo deve ricordare, è stato condannato per omicidio definito in galera. Dopodiché la risposta dello Stato rispetto a un uomo che ha ucciso e definito in galera qual è stata? Lo Stato gli ha consegnato la grazia. Questo è un Paese normale, un Paese che dà la grazia a Salvatore Buzzi e tiene in galera un povero Cristo come Antonio Molella. È un Paese profondamente ingiusto. Salvatore Buzzi aveva la tessera del PD. Salvatore Buzzi ha finanziato la campagna elettorale del PD. Salvatore Buzzi ha partecipato alle cene di finanziamento di Renzi, mille euro a cena. Salvatore Buzzi era strettamente legato alla politica del Partito Democratico. Ci sono tantissime domande che noi vorremmo fare e vorremmo chiedere al Governo, ma ad esempio a Marino. Perché con Marino le cooperative sociali oggi sotto inchiesta hanno aumentato e incrementato la propria attività e i propri affari? Perché Marino ha continuato dopo che un anno fa il MEF gli aveva fatto presente che i servizi erogati dal Comune tramite affidamento diretto non andavano bene e serviva una gara trasparenza di evidenza pubblica, una gara trasparente ha continuato a derogare servizi attraverso il meccanismo dell'affidamento? Perché Marino da sindaco, da candidato sindaco, prende i soldi regolari, pare, dalla cooperativa sociale, esattamente da quella stessa cooperativa sociale che sta svolgendo servizi in nome per conto del Comune? Perché le cooperative possono finanziare la politica? Perché continuate l'altro tema che non è stato toccato e lo mettiamo noi? Perché continuate, nonostante quello che è successo su Mafia Capitale, con Salvatore Buzzi che dice che il business dell'immigrazione rende molto di più della mafia, continuate ad importare immigrati alimentando e arricchendo questo business criminale della criminalità organizzata. Chiudo, Presidente. In un Paese normale, se fossimo in un Paese normale, il sindaco Marino, indipendentemente dalle responsabilità di natura penale, che a oggi non sono assolutamente accertate e ci mancherebbe altro, dal punto di vista politico andrebbe a casa, verrebbe cacciato e verrebbe ridata la parola al popolo romano. Chiudo, Presidente. Popolo che oggi, se potesse, caccerebbe anche questo governo. Noi vogliamo tornare, e credo con noi tutto il popolo a vivere in un Paese normale. Ringrazio il collega Marazziti. Grazie, Presidente. Signor Ministro, Roma è malata, ce l'ha anche raccontato lei. Signor Ministro, una legge sulle lobby è stata presentata da noi già un anno fa e quindi potremmo decidere assieme, Governo e Parlamento, di discuterla presto. Roma è malata, tanti si autoassolvono e la sofferenza dei poveri purtroppo rimane. Il massimo di cui si parla anche in quest'Aula, sarebbe il minimo, è onestà. L'onestà è come un tubo, però, è indispensabile per non disperdere l'acqua, la vita, per strada, ma ci vuole anche l'acqua o i tubi sono secchi, cioè serve anche un sogno, nella politica per Roma. Una visione è un progetto. Roma è bellezza, è una capitale mondiale.